Grande fratello Elena Prestes sbugiarda Lorenzo e Shaila. Lunedì notte dopo la puntata del Grande Fratello, Elena Prestes ha confidato ai coinquilini di provare qualcosa per Lorenzo Spolverato. Ieri sera la modella è tornata a parlare di Lorenzo e durante un momento di confidenze con Jessica Morlacchi ha svelato che Spolverato qualche giorno fa le ha assicurato di non essere interessato davvero a Shaila Gatta, con cui però adesso amoreggia il gran hermano. Elena Prestes, lui mi ha detto che Shaila non gli piace. Jessica Morlacchi ha spiegato ad Elena Prestes che secondo lei Lorenzo ha un interesse per Shaila, ma la brasiliana ha detto io non riesco a capire, perché lui a me diceva che non voleva una donna come lei e che non la vedeva proprio come una possibile compagna. A me lui ha detto che non gli piace. Io so delle cose che ti voglio dire fuori. Quando usciremo ricordato di questo giorno, mercoledì 23 ottobre. Intanto su Twitter è riapparso un video della scorsa settimana, in cui Lorenzo dice alla modella, se mi piaceva. Mi piaceva l'idea che mi ero fatto di lei, ma lei no, non mi piace come donna. Non ha sincerità e poi quello che vedo non mi piace affatto. Non la vedo come una ragazza che mi può piacere. E proprio in quei giorni Shaila ha fatto alla geffina brasiliana delle confidenze simili a quelle di Lorenzo, te lo giuro, al massimo posso vederlo come un fratello, non lo vedo con gli occhi di un possibile ragazzo. Non è una persona che vorrei al mio fianco. A me piace solo a Vier. Lo conosco giorno dopo giorno e mi piace sempre di più, mi sento trasportare. Lorenzo mi dispiaceva perderlo come amico, ma finisce qui. Io sono interessata solo a Vier te lo assicuro. a Vier te lo assicuro.